Ciao, sono Maria Cicorella, chef del ristorante Pascià di Conversano e stamattina in giro per il paese e ho fatto una bella spesa di ingredienti tipici. Sto aspettando Emanuele, un blogger di Brindisi e con questi ingredienti vedremo come saprà stupire. Wow Maria, hai fatto una bellissima spesa. Ci sono i fioroni, profumatissimo. Cardamomo e c'è anche la salicornia. E c'è dell'altro. I gamberi rossi di Gallipoli. Farei uno spiedino con i gamberi, i sichi e la salicornia. E il calamaro? Ci mettiamo anche il calamaro? Allora, iniziamo con la ricetta. Stiamo sbollentando la salicornia. E poi ne chiedo una mano con questo piano perché sono abituato al gas, sinceramente non so dove mettere le mani. È un piano a induzione ed è semplicissimo, anche comodissimo. Grazie, chef. Avrei bisogno anche di gentilmente un po' di ghiaccio. Sì. Per raffreddare poi successivamente la salicornia e mantenere intatto il suo colore. Quindi mettiamo a bollire dieci minuti la salicornia e poi passiamo alla pulizia del pesce. Sì. Va bene, chef? È questo lato, sì. Dobbiamo rompere le fibre, altrimenti... Ok. A questo punto scoliamo la salicornia nella nostra pool con il ghiaccio. Adesso passiamo alla marinatura del pesce. Sì. Con pompelmo, cardamomo, sale e pepe. Andiamo a spremere gli agrumi. Metà del succo lo utilizziamo per l'emulsione, l'altra metà invece per la marinatura. Passiamo alla marinatura dei calamari e dei gamberi. Utilizziamo un po' del succo precedentemente spremuto, metà per l'emulsione e metà per la marinatura. Aggiungiamo un po' d'olio, un po' di pepe e il cardamomo. Adesso andiamo a completare la marinatura nel frigo. Chef, le chiede un po' di pellicola per coprire i nostri calamari e le nostre gambe. Pellicola? Guarda, utilizza il sottovuoto. Abbiamo il sottovuoto, così matura prima è meglio. Ok. Sì. Aggiungiamo anche il nostro succo. Adesso andiamo a preparare il nostro carpaccio di fichi che utilizzeremo come base per lo spedino. Pelliamo i nostri fichi. Stiamo utilizzando per questa ricetta dei fichi di stagione, che sono i fioroni. Sì, sono locali questi fioroni, sono di conversano. Una spesa a chilometro zero, Chef. Esatto. Andiamo adesso a realizzare il nostro carpaccio. Esatto. Schiacciala bene e dopo la distribuiamo sul piatto. Più energie Emanuele, dai. Ok, Chef. Andiamo quindi a prendere i nostri due stampini. Seriamo la polpa all'interno. Può bastare così, Chef? Sì, basta così. Andiamo a pressare la polpa del fico. Adesso lasciamo rassodare il nostro carpaccio di fichi nel frigo e passiamo a creare l'emulsione. Prendi i gamberi, la busta sottovuoto. Mettiamo anche questa in frigo nel frattempo. Visto? Fantastico. Passiamo adesso a fare la nostra emulsione. Utilizziamo il succo di agrumi che avevamo fatto in precedenza. Sempre il nostro fantastico olio pugliese. Un cucchiaino di miele. Un po' di pepe. E adesso con il mini peamer andiamo a montare la nostra emulsione. Chef, un dubbio? Forse ho dimenticato il sale. Il sale ce l'hai già messo. È il sbagliato contenitore. Quello è un sale nero. Ah, ok. Un sale nero. Non è pepe. Posso aiutarti? Come no, Chef. Proviamo a utilizzare lo stelo di questa salicornia come spiedino. Perfetto. Prepariamo la salicornia. La marinatura. Sì. La marinatura è pronta. Togliamo i gamberi dalla marinatura. È arrivata la fase più delicata, Chef. Fare lo spiedino con il gambo della nostra salicornia. Intanto ci prepariamo il passaggio con questo spiedino di acciaio. Perfetto. Quindi posizionalo qua. Guarda che bello. Bellissimo. Ci aiutiamo sempre con lo spiedino. Sì, sì. Eh beh, ci vuole. Non è mica magia questa. Vedi? Ci provo io adesso. Vai. Vediamo. Penso possa andare così, Chef. Che ne pensa? Sì, sì. Ok. Andiamo a prendere dal frigo il piatto con la nostra carpaccio di fighi. Passiamo adesso all'impiattamento. Perfetto. Ho visto? Ok. Lo spiedino. Sì. Andiamo ad aggiungere un po' di salicornia. Andiamo poi ad aggiungere a crudo un po' nella nostra emulsione. E un po' di pepe non ce lo metti? Ha ragione, Chef. Per me dovrebbe essere pronto così, Chef. Che ne pensa? Lo assaggio e te lo dico. Anche alla cottura va bene. È buono. Prova. Grazie, Chef. Provarò anche tu. Lo provo anch'io. Dai, non male, Chef. È buono, buono. Sei stato bravo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.